Benvenuti al Tg della Nuova Calabria, secondo giorno di visita istituzionale della Presidente del Parlamento europeo Roberta Mezzola, quest'oggi c'erano anche i Ministri dell'Interno, Piantedosi e il Ministro degli Esteri Tajani e proprio Tajani alla presenza del Presidente della Giunta regionale Roberto Chiuto ha dato un annuncio importante sul prossimo G7 del commercio internazionale che si terrà in Calabria. Ci teneva ad annunciare qui in Calabria, nella sede del Palazzo della Regione, che ho deciso di organizzare il G7 del commercio internazionale in Calabria, a Villa San Giovanni, che si svolgerà durante il mese di luglio. È una scelta che ho fatto per ribadire quanto sia questa terra importante, debba essere un territorio internazionale. Ringrazio il Presidente Occhiuto per aver accettato con entusiasmo la mia decisione. Io ho deciso di organizzare il G7 del commercio internazionale a Villa San Giovanni, quindi di fatto a due passi da Reggio Calabria, proprio per dare attenzione a questa bellissima regione, ma anche per far capire che dal sud, da questo mare, può partire un messaggio positivo per rinforzare le esportazioni del nostro Paese in tutta l'area del Mediterraneo. Saranno con noi americani, francesi, tedeschi, giapponesi, canadesi e naturalmente l'Unione europea e quindi discuteremo delle politiche del commercio internazionale e vedere quali saranno le scelte da fare, proprio per far sì che i Paesi del G7 possano svolgere un ruolo importante e, come abbiamo sempre detto, guardare verso il sud del mondo. Nell'ambito di questa seconda giornata di visita istituzionale che si è svolta sostanzialmente nel Palazzo della Regione, nella cittadella regionale, a una domanda relativa al recente accordo sui migranti dell'Italia con l'Albania, ha risposto proprio la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Mezzola. Sentiamo. Allora, come ha detto la Commissione Europea, questo non è qualcosa che cade nella competenza europea, perché è un accordo tra un Paese membro e un Paese terzo. La cosa che voglio dire è che sull'immigrazione noi dobbiamo, non parliamo con noi stessi solamente, ma anche parliamo con dei Paesi terzi, Paesi vicini, che possiamo parlare sull'investimento, sullo sviluppo, ma anche sulla discussione degli influssi e dell'aiuto che noi possiamo fare insieme per evitare più perdita di vita nel mare. Io vengo da un'isola pieno centro del Mediterraneo e dieci anni fa il Papa ha detto che il mare Mediterraneo è il più grande gemiterio nel mondo e se noi possiamo fare anche dal sud, e per questo io saluto degli sforzi che sta facendo il governo italiano, per trovare delle soluzioni. Allora, delle soluzioni noi abbiamo come leggi, abbiamo cinque proposte legislative che questa settimana a Bruxelles, spero che riusciremo a trovare delle maggioranze, io sono ottimista con cautela, che se posso dire così, ma infatti se possiamo anche trovare la possibilità di avere una politica con i nostri vicini, una politica di ritorno che è più efficace, una politica di solidarietà, una politica di protezione, allora penso che possiamo dire ai nostri cittadini, quando andiamo al voto giugno prossimo, che abbiamo trovato delle soluzioni legislative e anche politiche. E alla Mezzola il Presidente della Giunta regionale Occhiuto quest'oggi ha rivelato l'attivazione del numero unico per le emergenze, il 112, è la sala operativa installata proprio nel Palazzo della Cittadella regionale. Nella giornata di ieri invece c'è stata una visita alla control room della protezione civile per l'operazione tolleranza zero, cioè tutta quella serie di attività principalmente svolta con i droni per prevenire gli incendi dolosi. Sentiamo Occhiuto cosa ha detto. Sono molto felice che la Presidente del Parlamento europeo Roberta Mezzola abbia accettato il mio invito e abbia deciso di essere qui in Calabria oggi. Sono onorato di questa occasione che ci ha dato. Quando l'ho incontrata a Bruxelles abbiamo discusso di questa iniziativa che la Calabria aveva intrapreso, che abbiamo denominato tolleranza zero e che si basa sull'uso dei droni per contrastare i reati ambientali. La Presidente Mezzola ha dimostrato grande interesse verso questa iniziativa per cui qualche giorno fa abbiamo deciso che nell'occasione della sua visita gli avremmo fatto visitare la centrale operativa che abbiamo utilizzato in questa attività. Sono davvero felice che oggi lei abbia potuto constatare con i suoi occhi quanto importante sia stato il lavoro di tanti volontari, di tanti dronisti che hanno fatto segnalare la Calabria una volta tanto come un esempio da imitare in Italia e in Europa. Ovviamente tolleranza zero non solo per gli incendi ma anche per gli sversamenti fognari, per l'inquinamento nei mari. Dunque chiudiamo questa ampia pagina dedicata alla visita istituzionale della Presidente del Parlamento europeo, cambiamo argomento e ci occupiamo della cerimonia che quest'oggi si è celebrata nella Prefettura di Catanzaro con il riconoscimento dei nuovi maestri del lavoro con il servizio di Paolo Cristoforo. L'etica del lavoro, la dignità della persona, il valore della collettività. Questi pilastri ideologici che danno un senso alla manifestazione svoltasi questa mattina presso la Prefettura di Catanzaro alla presenza delle autorità civili, militari e religiose locali. Premiare il lavoro, premiare l'impegno, premiare i buoni esempi per la società. Nella sala tricolore dello storico palazzo nel centro del capoluogo sono state conferite le stelle al merito del lavoro per l'anno corrente a 23 nuovi maestri del lavoro calabresi. In totale erano 25, ma due di essi hanno già ritirato l'onoreficenza presso il Quirinale a Roma. Le stelle al merito sono state concesse a quanti si sono distinti nel proprio ambito professionale per meriti di perizia, laboriosità, condotta morale e anche anzianità di servizio. La manifestazione aperta sulle note dell'inno di Mameli è stata presieduta dal Prefetto di Catanzaro Enrico Ricci. Presenti anche i suoi omologhi delle altre province, il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, insieme ad altri primi cittadini calabresi e rappresentanti delle istituzioni provinciali ed esponenti di primo piano delle forze dell'ordine. Ai lavori della cerimonia ha preso parte anche il direttore dell'area metropolitana dell'Ispettorato di Lavoro di Reggio Calabria, il console regionale e i cinque consoli provinciali dei maestri del lavoro. Presente anche la sottosegretaria al Ministero dell'Interno Vandaferro e il vescovo dell'Arcidiocesi di Catanzaro Squillace, Monsignor Claudio Maniago. Riconoscimenti importanti, come ha sottolineato anche il Prefetto, che esaltano il lavoro che è alla base dei principi costituzionali. In una società che guarda sempre più, anche con i social, agli uomini di successo, si guarda sempre meno agli uomini di valore, ha detto invece Vandaferro, sottolineando come il lavoro restituisca dignità ai cittadini, ma anche libertà. Come avete capito è stata una giornata intensa di appuntamenti pubblici e anche politici in Calabria. Il Consiglio regionale è impegnato nella sessione dei bilancio e in Consiglio regionale resterà l'Avvocato Antonello Tallerico che ha vinto in Cassazione la disputa giudiziaria contro Valeria Fedele. Il ricorso di Valeria Fedele è stato respinto, è stata riconosciuta quindi l'ineggibilità della stessa che ricopriva la carica di direttore generale della provincia di Catanzaro e quindi Antonello Tallerico mantiene il suo scranno a Palazzo Campanella. Questa era l'ultima notizia per oggi e io vi do appuntamento alla prossima edizione del TG della Nuova Calabria.